Montaldo, un paese, un luogo che amo. Storia, leggenda, realtà. Storia, leggenda. Qui passò Napoleone Bonaparte prima della battaglia di Pastrello. In un piadoro proprio qua vicino, mise le sue truppe, fece l'accampamento. Alcuni generali si ammararono di polmonite. L'aria buona. E chissà, un pozzo che esiste ancora, dove tingere l'acqua, fecero un mezzo miracolo. Tutti i generali guarirono. Magari chissà, questo determinò la vittoria nella battaglia di Pastrello. Oggi, Montaldo, i suoi abitanti chiamano, i suoi dipendenti chiamano. Cosa deve fare un sindaco? Prima di tutto garantire la salute ai propri dipendenti e ai propri cittadini. E allora vai. Il paese è pieno di indicazioni su cosa si può o cosa non si deve fare per battere questa epidemia e che trasformerà anche il nostro mondo di rapportarci, il nostro mondo di lavorare. E allora, primo paese del Chiarese, probabilmente fra i primi in Piemonte, abbiamo distribuito le mascherine ai tutti i capi famiglia. E lì è venuta fuori la solidarietà dei montaldesi. Forse perché in un paese qua vicino è nato Don Bosco. E allora non mi ha stupito molto se qualche capofamiglia ha rifiutato di prendere la mascherina dicendogli tagliala, Sergio, a chi ne ha più bisogno di me. Ebbene, abbiamo preso dei provvedimenti che sono coerenti con quelli che sono stati presi in Cina. Periodicamente puliamo le strade. Ma non è bastato questo. In questo momento qua le persone hanno bisogno di luce, di speranza. E allora abbiamo acceso le luci di Palazzo Civico per due giorni di seguito. Ripeteremo questa illuminazione. Perché la luce è il più alto segno di speranza. Ti chiamano sindaci sentinelli, ma la sentinella se sola può fare poco. Se a Montaldo abbiamo preso questi provvedimenti per la difesa e la tutela sanitaria delle persone, ecco, il mio ringraziamento va prima di tutto ai dipendenti comunali che sono qua con me molte volte a sentire soltanto le persone che hanno bisogno di essere rassicurati, hanno bisogno di parlare. Ecco, mi sembra che questo sia un dato fondamentale. Io in questo momento qua patisco molto il fatto di non poter abbracciare prima di tutto i miei cari figli, i figli, la più bella, la famiglia. Ma sento anche il bisogno di riprendere ad abbracciare i miei collaboratori, di prendere ad abbracciare i montaldesi. Ecco, la speranza è tutta qua. Riuscire presto a venire via da questa situazione. Viva l'Italia, viva i montaldesi.